Salve a tutti, ciao, salve, questo è un video messaggio barra diario alla fine della giornata perché fuori pure non si vede una ceppa niente, insomma oggi è una giornata abbastanza piena abbiamo visitato Monte Cassino, io per la prima volta, e devo dire che è una figa pazzia con un grande suono dentro e a proposito Mauro ricordati la croce di platino e il diamante detto questo abbiamo cenato in un posticino perfetto, molto bello, cibo buono a chilometri zero, quindi filosofia dietro il prodotto, prezzo onestissimo davvero onesto, ringraziamo le nostre guide d'eccezione ovviamente Luca Ornella che appena arrivano a Pescara saranno nostri ospiti questa volta e insomma ci prepariamo ad andare a letto per poi rifare la macchina domani mattina e ritornare verso casa, anche perché ci aspetta dei micetti ciao a tutti, buonanotte grazie a tutti 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 grazie a tutti